il nucleo ce l'hai? attiva il nucleo? tutto carico? buono no no tienitela tienitela che mi frega tienitela tienitela ma sicurissimo non ti preoccupare eh purtroppo non abbiamo io almeno io non ho tutto sto materiale poi dobbiamo andare a cercare del cibo perchè stiamo per morire si l'ho ucciso ucciso livello 3 dicevo andiamo a chat ahhh aspettate ragazzi che metto i commenti si si metto i commenti aspetta impostazione live mi salizza come deve andare sul mio profilo impostazione avanzata ok ok sera ragazzi non lo so se è l'ultimo giorno eh ma secondo me ci sarà quella pubblica per i stessi testi ma è morta? no ha fatto la le moca piano ah ha fatto le morti con il senale sai? ma smile non lo so se dice smile allora andiamo a cercare da mangiare davvero che cosa mi ha messo in malazzo quando esce il gioco esce il 14 esce il gioco allora noi siamo qua andiamo all 89 che c'è una casa un edificio vediamo se troviamo qualche cosa e gritta davanti a noi Katia vediamo se troviamo acqua o cibo cioè l'acqua ce l'abbiamo il cibo che manca segnale di emergenza dei soccoritori l'acqua venga c'è un play da l'antena sempre gritta di qua vabbè perché l'armatura atomica è pesante da fin fine ecco là il villaggio lo vediamo lo vediamo là lo vedi là il villaggio ora ce lo giriamo tutto e non trovare cibo e acqua io non ne uso l'armatura atomica io uso la fibra balistica ti conviene abbassare quella è livello 16 dietro di te cazzo questo fa male no spara a me guarda ma anche io non mi spari ma perché non mi spari ma ammazza mi sta ammazzando ma non è sempre casa è un bravo ecco potremmo usare la stagna sulla porta perché non mi spari aia 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 il telefono come si è accertato ma non mi spari 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 e atti dopo che cosa lo tienimo il vestito atti da vestito che ce l'ho tutta da paramedico no non ce l'ho tutta da paramedico non ce l'ho non l'ho ammazzata via alla fine vai è ritornato a fare il bastardo è ritornato a fare ok 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 no, non è troppo un poccia ma è un online e vi si spara? eh si purtroppo che questo c'è una Questa, ma l'ho scoperto, ma lei non so se ci siamo per 9, 9? E lei non so se ci siamo per 9, ma non so se ci siamo per 9, ma non so se ci siamo per 9 perchè non ci conosciamo bene non c'è un'esparato ti sei divertito? oh what? ahhh polla vediamo la casa, vediamo dai non aprire quella porta potrebbe uscire un mostro muore, è il sereno muore ma mi dite la vostra opinione sulle condizioni delle armi? cioè un uomo hanno fatto bene a raggiungerla? no, in realtà le armi si sciupano, si sciupano le armi lo puoi riparare, insomma, se hai materiali orologio, la tasca e l'argento lo prendo, eh si credo che mi ha, eh, mi ha alleggerito il tizio però va bene uguale dai si, mi ha preso un po' di roba ma era solo robetta non avevo ganché ma c'è cosa c'è? non lo so, prova io sto cercando sto cercando di trovare acqua e cibo ma che cosa c'è? no, ma che cosa c'è? no, ma che cosa c'è? qua ho trovato ancora il tormentino povera allora posso riparare l'arma? allora posso riparare l'arma? allora il banco lavora per armatura c'è 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 però leggera allora potrasegna costruisci non ho i materiali mi manca un botto di materiali completi stessa cosa manca oro non posso fare niente non posso fare niente neanche un botto di materiali ma ma no no salvatore no no è scritto come ti pare fallout che non pensi io non sono ancora a sorprenderlo eh rischiano io sono un amante di fallout a me piace quindi lo prendo più per passione eh bravo sono un amante guardate un'altra bellica un'altra ffrumentazione si ma io ho bisogno ho bisogno di acqua e di cibo solo il proprietario cassa virtuale vabbè fare il 4 fallout 4 è bello se te lo fai in sopravvivenza già finito no te lo fai quando sei oltre il livello 70 ma gli altri giocatori ti danno fastidio online tipo gta 5 poco fa ho risposto al fuoco l'ho ucciso lui è venuto a cercarmi e mi ha ucciso poi se n'è andato si è come gta 5 se rispondi al fuoco entri in pvp con lui lo puoi uccidere oppure ti fai fatti tuoi e te ne vai e lui non ti può fare niente non la puoi mettere nel non la puoi mettere allora vi chiede la chiave ciao enzo vi chiede la chiave ho capito comunque se non rispondi al fuoco non succede nulla esatto io per sbaglio ho risposto al fuoco e abbiamo ingaggiato un duello la prima l'ho vinta io e poi l'ha pareggiata lui ma non serve per quanti giocatori ci sono? 24 ah 24 25 mi credo allora io mi sto guardando le case Katia che siamo messi in mano una squadra? no ci mancano due nostri amici mancano che ancora non lo so se vengono due se qualcuno fa ponte forni nel giorno in qualsiasi gioco non riesco io vabbò poi vediamo perché io mi creerò due personaggi una per l'online con loro e una partita privata per i fatti miei e ti puoi creare più personaggi salvo hanno aumentato il framerate si si va una meraviglia va non scatta più non rallenta più va veramente bene e i nemici sono un pochettino più intelligenti i nemici sono completo da ispettore ho trovato un vestito allora solito torace di metallo tate ha risolto si si ha risolto ha risolto ah no non ha risolto aspetta a te aspetta voleva sapere il discorso dell'account Enzo entra non ha risolto così poi glielo dici ma non ci puoi entrare nel port? no una volta che si esce non lo so perché non si può più entrare è la beta o perché? ma credo perché sia la beta credo no ma per adesso dobbiamo trovare da mangiare dobbiamo trovare dove sta andando Katia? dove sta andando lì? che fazione ci sono nella beta? noi abbiamo trovato quella dei soccorritori prima adesso va bene entra dopo vabbè si c'è la super mutante ah ok bottiglia di birra bottiglia di birra ok andiamo a vedere se troviamo qualcosa da mangiare ma come lei Katia è così abbingata tutta questa arma brucia? non lo so ma vabbè no 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 uno che ha un account multi... multi account intanto mi è arrivata già subito la segnalazione mi è arrivata qua ho il telefonino scopo che rimane a questo una cosa che è poi finita un po' la signora ha un salotto 4 le centenelle non davano la reazione perchè fosse più no anche a lei danno le reazioni se non la costruisci tu Sì, sì, esatto, dove l'aveva lasciata, cibo, il porto del cibo, data talpa, un po' di cibo, assomiglia a Napoli, di Pallotti, New Vegas, i rati talpa, se non ci hai fatto a casa. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. a chi mi piace qui. Allora, oggi è la tarda, ho trovato l'oro per potenziarmi la cruta alle volte. Ma no, sono solo un patito di jacksoft perché mi piace. No, patito. Allora, andiamo più avanti, andiamo, vediamo se, eh, sto volendo se troviamo qualcosa da mangiante. Ci siamo, ho trovato, ho trovato un vattro calpa, sto cercando anche da bere per te, ma, basta, qua c'è una porta, qua c'è Katia. Il fiume non potete raccogliare perché bollire? Eh, no, si fa dalle fontanelle, si fa l'abbollitura. Sì, anche dalle fontanelle, però, anche dalle fiume. No, io ci ho provato, beve soltanto, no, no, beve solo dalla fontanella, dal fiume si becca sulla reazione. La c'è un bar, c'è, vado a farmi una birra. Vado a farmi una birra. Eh, bottiglia bianca. Oh, qua c'è un bellissimo pompa. C'è una bella. Allora, vediamo un po', qua va. Oh, cavolo. Ah, questo è nuovo, è buono, buono. No, wallace. Che non cammina neanche senza nuve. Se parte muove, magari ce la fa poi. Che intifizio. Che Xbox può giocare con PS4. Allora, cosa bella che sono le armi belliche su... Eh, lo so, io ancora un'arma buona non l'ho trovata. Abbiamo armi che fanno un po' schifo. Franne una che è quella leggenda che ho usato per i mostri quali forti. Buona lampadina. C'era una trappola, c'era. Il fornero me lo prendo, che è da parte di rame. Io sono siciliano. No. 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 so se vorrei dare tutti i giorni dipende vedremo non lo so il tempo è sicuro ma poi c'è cose da fare vediamo forse la sera dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo andare da quella c'è una porta rossa lì katia università voltech nulla è una missione secondaria che ti dà solo 50 tappi e basta cioè rivedendo la raga tua tu stai a morire di radiazione eh lo so ma l'ultimata 50 tappi per niente faccio il terminale 5 no ma ne fai i soldi a voi povera se fa ciclette no c'è c'è la musica il giubbocs funziona ma allora qua c'è uno psaico una baletta c'è uno psaico c'è uno psaico ma è sentita che ti ha dato qualche agilità in più per fare la scletta ma secondo me è una riproduzione di un volt assomiglia a troppo no questa è l'università voltech ok c'è aspetta ok ah beh allora avete giocato i dlc far arbor? si si quando devi andare a scoprire l'omicidio nel volt dei robot? bellissima bravo questa bastarda questo era un ghoul povera sforza roba buona sicuramente faranno come in new vegas diranno che testa e motore grafico ce l'aveva fatto quindi mi sento molto bla 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 vabbè ma è normale è così allora prendi a via problemi personali quattro anni di vita e di insegnamenti voltech laureata con l'ode sulla strada della soprintendenza papà era così fiero di me nonostante la malattia era venuto alla consegna un colpo di laggia ma è così fiero di giusto erano subito il primo gruppo e la soprintendente di soprintendenza ero appena laureata quando sapevano che la guerra era era soprendentenda quando ho saputo della costruzione del 76 non stavo nella pelle dalla gioia credo che sia morta credo la palacchia sarebbe stata al sicuro a prescindere da per accanto a me katia evano ha scelto quel momento per chiedermi di sposarlo l'uomo vittorio 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 ma io stessa non ci sono mai arrivata ma io sono i spinplac ho finalmente una spinplac olla madonna uno spinplac trovato vaffanculo mi ha trovato uno e l'ho usato uno ne ha trovato meno cura però cura ugualmente niente qua dentro non c'è niente Katia per me la versione speciale ti danno capriccio manda sti ma che cosa si potrebbe essere un'altra cosa c'è? ripropociato camera tutta alta allora è molto male quella però è una portata un volto quella dopo vuoi far vedere la costruzione ma funziona non è che non vorrei non ho i materiali christian ho pochi materiali sì perché non ho molti materiali no tutti qua sono pochissimi materiali poi il tizio che mi ha ucciso mi ha leggermente rapinato il tizio che mi ha ucciso acqua e steampock a questo infatti a venire qua sopra c'è steampock qua sulla destra qua dietro 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 hai preso steampock la allora ok vai tranquillo lo so purtroppo quello mi ha rapinato e si è preso parecchia roba che avevo allora quest'arma si sta rompendo se no no non c'è fuoco amico no no guarda la mia arma praticamente è scassata questo ecco qua se lo butto metto questo di qua che cosa serve la campanella sul picco voi 143 cosa si serve allora adesso metto questo di qua eh apri il picco voi c'è una campanella vicino 146 147 sono mi pare che dovrebbe essere allora no non ho dubbito non lo so potete dire allora c'è un'altra porta qua no abbiamo visto ovunque qua abbiamo visto tutto siamo andati ovunque giusto ce ne possiamo andare ciao dani si te la possono distruggere ma tu la puoi ricostruire perché ti richiede pochissimo materiale se ce l'hai ti richiede poco materiale perché ti rimane memorizzata ti rimane memorizzata quando fa la costruzione quindi ti richiede pochissimo materiale solo che io manco quello cioè ho visto che quello mi ha rapinato non credo che te l'accetterà l'amicizia ma non credo che te l'accetti non credo che te l'accetti hai capito piccolo eh sì sono uscito ma tu a salvo vi siete conosciuti qua su fallout ma tu a salvo vi siete conosciuti qua su fallout ma tu a salvo vi siete conosciuti qua su fallout da delivision bello allora io ho ucciso un paio di lati talpa allora li dobbiamo solo cucinare e poi ce li dividiamo vabbè metti qua tra poco arriva tra poco arriva la Dani tra poco allora dobbiamo trovare il modo da cucinare no no aumenta 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 più siamo e aumenta ci sono più nemici si si aggiusta da solo il gioco esatto si adegua ai giocatori che compongono la squadra no chiave combinata si quella rossa sono già fuori sto cercando un modo per stai facendo dei culo c'è finale allora cazziamo il campo in mezzo all'autostrada quasi qua sta la macchina a 130 e poi qua eh e tutti in caso qualche qualche che che adesso l'altra la l'altra l'altra la la l'altra 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 Ok Oh Cosa continuare da tipo Si 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 Allora Qua Si 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 aspetta che ci sono i gol gol, gol allora alleggeriscite un po' mettiti il camp e ti alleggerisci ce la fa appiazzato? eh cibo e acqua siamo messi male allora io l'acqua ce l'ho come mai è tutto rosso? hai la dissenteria? no, hai fame allora io avevo un pizzettino di carne ora si è avariata costata di carne è ancora buona frutto macello eh si, solo lo scatolame non vai vai non si sciupa quindi appena poi scatolame a manetta andate in mezzo alla tua strada basta neppure l'aprile non lo puoi mettere lì nelle zone fuori fuori le strade e in città non lo puoi piazzare cioè è una stronzata però è così se uno trova la casa fregna si vuole mettere il campo no non può diciamo che sareste avvantaggiato dalla costruzione già sareste avvantaggiato allora allora qua io non ho controllato qua non si può andare ma so cosa c'è sta concentrata qua ci... non ho capito sei maschio o femmina ah 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 hai la... hai la voce un po' una una è il telefono mi scarno me lo dico mi prendo il telefono mi scarno mi prendo a me hai la voce non mi prendo se mi prendo qua ci acqua sporca questa me la prendo perché si buonisce la carne c'è acqua bollita qua dentro katia allora tu ne hai acqua ne hai acqua katia ne hai acqua katia no ne hai tu acqua io ne ho segno dobbiamo trovare un posto per cucinare o se tu esci il campo cuciniamo l'acqua e il cibo adesso si continuano camminando ma anche usando lo spav? si pronto un po' appresso un po' di legno ragazzi Katia salgo è stato veramente un piacere stare là con voi io vi lascio va bene ciao piccolo spero di fare questa bellissima esperienza e grazie a tutti va bene ciao comunque puoi salvo se scrive lo stagio sulla linea così pura Katia va bene ok ciao allora lo puoi piazzare il cam katia ce la fai piazzarlo mi vediamo se io riesco a costruire mi non so cosa tu tu ce l'hai già la cucina giusto? si ok butta fuori la cucina che cuciniamo oh voglio dire siamo in un posto un pochettino scoperto però poi andiamo in quella casa nera andiamo e in quel palazzo lì ok tu cucina e poi cucino io dai ce l'hai da cucinare dai che ti guardo le spalle dai io nel mentre faccio un po' di legna eh io qualche cosa ce l'ho qualche cosa ce l'ho io ho ucciso un paio di ratital qua io ora ti passo un po' di roba solo che non so se c'ho abbastanza legna forse metterà ecco qua no questo non si può raccogliere maledetto un cavolo di tronco per terra non c'è è già fatto? ok ora ti passo io un po' di roba aspetta questo non ti può frugliare vediamo se ho un po' di legna allora vediamo un po' cuciniamo ok allora carni no può essere sì due forcconcini di ratital ho finito la legna avevo solo tre pezzi di ratital ok aspetta che credo vieni qua Katia si si aspetta che diamo l'acqua bene allora tieni qua i ratital te ne do due te ne do allora canne canne di cervo canne di ratital allora lascia eh devo trovare l'altro solo uno me ne ha fatto sì perché avevo non avevo legna non avevo legna no non ne ho più non ne ho più aspetta che beviamo allora riempimi le bottiglie d'acqua si lo so si lo so prendo un pochettino di radiazioni ma va bene guarda tanto ce l'ho errato quante tre sei riempita eh si si io mi riempio una mentina di bottiglie d'acqua mi riempio che da 5 a botta in radiazioni eh io ho le perche in radiazioni e mi da 5 a botta il problema è che non ho legna devo trovare legna ok un altro colpo e mi fermo dai vediamo se trovo un po' di legna e cuciniamo un po' st'acqua forse non si può raccogliere oh ma che sfiga alberi per terra non ce n'ha questi non si possono raccogliere ma le lezioni oh ma che sfiga finchè non ci credere che non trovo questi legna questi non mi li fanno raccogliere e adesso non te la volevo legare volevo vedere se trovo un po' di legna questa manca oh ma sfiga nera incredibile c'è due mila alberi c'è due mila alberi non trovo non trovo legna c'è ma non ci credo questo non me la far raccogliere non ci credere non ci credere non ci credere ooooh no no questo è fiore vaffanculo albero un po' di alberi eccolo qua tronco vaffanculo trovo qualche altro pezzo di tronco niente ha trovato quei due pezzi non lo so quanto ne riesca a bollire vediamo sto venendo da te si due frammenti di tronco ho trovato non lo so quanto ne posso bollire ora vediamo tempo che vengo da te avresti che trovo qualche altra cosa di legno grazie l'hai scippato ah ce l'hai hai visto se si può creare nucleo fusione aspetta aspetta amore ho trovato amore qua ci sono amore katia dove sono io qua mi vedi qua vada sono qua che salto mi vedi qua questo è un albero c'è una planta di mole qua qua c'è una vieni 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 vabbè 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 se riesco a bollire l'acqua allora bolliamo l'acqua qua acqua bollita sì ne posso bollire otto bottiglie posso bollire perché poi erano più legna ok l'ho bollita tutta posso fare stucco di mura no questo non l'asciugo per i fogli ok l'acqua cielo le carni fratto talco eccolo qua ok benvenuti in appallacchia andiamo alla appallacchiare andiamola in quelle case ma credo che siano chiuse certo che ti senta ti mando l'invito qual è il problema tu dimmi quando sei là che ti mando l'invito sfida completata scopri la scissione selvaggia ma senza fare niente ho scoperto non so che cosa mi faccio paura quasi da solo quasi quasi da solo non lo so poi non lo so qua questa legna non posso non posso prenderla tu stai capriano sei sempre là sotto hai rimesso tutto nel campo sai che io non metto di aspetto qua cibo siamo messi molto male meglio mangiare qualcosina po' di radiazioni che sia bocconcini rani rata talpa mi manino tutti e ho finito e offre le more more servatica che mancano ok se mancano le more guarda il filo vita così mi devo le radiazioni e vaffanculo c'è avanti c'è palazzi lo rivendica l'officina si ce la può fare con quale steam pack la rivendico cioè non lo so se ci riusciamo super mutanti non mi tocco non mi toccare scena vaffanculo cazzo mi tocca to se cazzo scemo stop in munizione il fucile da caccia è in buone condizioni in munacchiappo o altri due stronti la ci sono livello 5 livello 5 livello 3 livelli 5 allora io c'ho una granata come li faccio tutto e tre con una granata questa è quella speciale questa è l'arma quella leggendaria ganata ce l'ho le ganata ce l'abbiamo no eccola qua ok 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 vi lancio un bel confetto a distanza finchia l'ho beccato come non ci fossero domani finchia che braccio che guarda ripolato che guarda ripolato flamberi mutanti ci sono due punti dietro oh c'è l'azzo la parola mi ha ucciso mi ha ucciso vabbè vabbè lascelo stare lascelo stare che rientro rientro tu fatti non fatti ammazzare alla mia tenda quindi a capo la roba si 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 sta arrivando questo posto non l'ho visto questo posto quello è tutta la reazione non l'ho visto la mia roba la mia roba no la mia roba non è qua no eccola qua ok si riprendi qua qua non l'hai riprendicato si 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 aspetta te lo mando te lo mando allora option 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 l1 social puttaccio puni no mi fa unisci mi fa no aspetta io so che non ti vedo non vedi se riesci a trasportarti che ti invito direttamente qua come invita si aspetta un quindi qua c'è un casino si chiama gratton steel 61 c'è un simbolo 61 non lo so io qua vedo molti molti punti gialli qua qua l'abbiamo dimendicato si si ma qua io avevo tanti punti gialli credo raccogli il barile ci sono cose da raccogliere ci sono degli oggetti da raccogliere katia a chi spari katia qui ci sono si 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 Dove c'è quella pagoda? Guardando il volto 71, il volto 76. Ah, io non l'ho capito che non ci riesco a invitare, non l'ho capito. Non ci riesce a unire. Bravolo. Beh, io ne avevo uno. Guarda, questa è quella mia. Rivelo 10. Eh, la rivelo 10. Come c'è? Sì. Sì. Non ho zero il steam. L'hai la macchina che c'è scoperta. L'hai la macchina che c'è scoperta. L'hai la macchina che c'è scoperta. Non so. Poi da entrare. Non so. Non so. Non so. Oh, i bastardi avessero uno steam. Ah, qua c'è. Qua, qua, qua. No, è vuoto. È vuoto. non c'è mai acqua da bere cibo niente non è niente io ho pure uno scuto di vita io ho uno scuto di vita ho uno scuto di vita ci avendo una nuca cola che vieni qua vieni qua vieni qua vieni vieni qua qua entra dentro qua per terra vieni qua qua capia per terra qua qui 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 per terra bene che non cacolo accesi ti dà energia come niente energia dà ok sto abbastato dov'è sto abbastato che fa a 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 sì non ho forcina grazie no lo accoglio i barili poi dobbiamo fare prima piastra pulita qua dentro che è pieno di stronti c'è non molto c'è ma sono qua dentro c'è ma è come entrare se ci spara la ci spara il bastardo a livello 16 livello 10 senta Katia, mi mandi salire sopra e riusciamo a salire che cavolo era quella cosa? ho visto una cosa strana un Merlock ho visto un Merlock, livello 24 mi pare ho visto un Merlock porca puttana, è scomparsa come non ci passano i domani quella è, no, livello 12 è Merlock non mu tires non mi�i non mi首o non mi l'jожу non miro non miro non miro more uo more uo more uo more uo more malaria bacob Oh cazzo ho visto un marlok di livellatori che ci trovano uccisi i super mutanti fortunatamente lo scampo che c'è qualcuno scappa cazzo ho visto cazzo ho visto cazzo ho visto cazzo ho visto Sì! 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 Supermutante è morto! Corri! Eh, caldo! un botto ce n'è perché ti siano limitato e sono risponati il gioco si adegua a numero di giocatori c'è uno che c'ha un laser i merloc i merloc stanno arrivando li stanno proteggendo che evento completato ma chi cavolo ha completato il gioco si è un gioco no Grazie a tutti. Cazzo, stavo raccogliendo la roba. Porca miseria, ho finito la munizione di pompa, ho finito praticamente quasi tutto. C'è due stronti di supermurano, quanto cavolo ce n'è, un battaglione c'è, cavolo. C'è ma veramente, oh ma quanto cavolo di supermutanti ci sono? Due mila! Sì, questa tutta la faccio domani. C'è la faccio domani. C'è la faccio domani. C'è la faccio domani. Noi non sono. C'è la faccio domani. Da... C'è la faccio domani. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No ma sono mucchi Ne vengono ancora Ne vengono Ma quanto cazzo sono Ma guarda Ce la possiamo andare Per me non è un po' bene Non è che ho sto fucile che è abbastanza forte Culla sto cecchino è una bomba sto fucile da caccia Ma guarda Non è un po' bene Non è un po' bene Ovviamente è morto Non è niente per smacciare E' un po' che ti doi Chia la abbiamo matrato a tutti Non ci credo si no no 2 milan e trovo solo 2 ciao 2 mila super mutanti e ne trovo un paio che cazzo nella nella fabbrica nella fabbrica dobbiamo trovare non deve essere a ripiare ma questo l'ho riparato a 20 metri 20 metri qua qua sotto allora trasferisci parla il sindaco di gratton dall'adorabile cittadina di gratton la dura realtà è che dei crostacei brutti e grossi invadono il nostro vittoresco lago sto cercando dei volontari che giochino a pari disinfestatori non è stato lì non vengono raggiunge l'isola ma io non ho niente da metterci qua è strattore di materiale acciaio devo trovare i materiali qua sotto cosa trovo si qua sotto mi dice non c'è non c'è non c'è Oh oh, ci sono un nardlock non ci sono la cassa è vero è vero non ho pure ero è vero noi sono che No Volevo sto cazzo di spav, porca miseria, cazzo Volevo sto merda spav Sia fu il picchi merda sto maledetto Cercati questo, sto maledetto Sto pieno un poco por ahi, no No, no Ora con il cilicolo Sia fuori 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 piede rotto ragazzi. Io qua ho trovato il materiale, c'è più barina. Sì, l'ho ammazzata un po' io, l'ho ammazzata. Io non l'ho trovato uno, ce n'è una a 58 metri più là sotto. Sì, l'ho trovato uno a 40 metri. L'ho trovato un morto. Chi fosse una maia bloc? Non c'è niente non ti ho fatto un problema di kele, kele è molto grosso, i Marlors si stanno spostando sull'isola del lago di Kravdor per procreare, non permettete loro di chiamare la regina, cosa accadrebbe, provate a immaginare oh tre bidoni mancano a prendere raga io ne ho presi tre a me mi dice qua, mi dà 1,86 e 1,55 oh la regina, è la regina, cazzo è morto sono morto non è la regina, è un Marlors un po' particolare oh 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 c'è il blocco della mica l'aggia eh ancora c'è un problema c'è ancora qualche problema c'è una stinta che ha trovato non so dove siete voi io io ora non vi vedo non so se sono allo stesso punto da voi no a me mi ha fatto risponare in una specie di torrette di un villaggio oh dio simproc acqua pollita vai acqua pollificata che culo simproc manette possibili vai venga sta a trovare stinta a manetta ok o è stato un forbitto mi sono un forbitto è stato un forbitto si nasconde il bastardo merda vaffanculo pezzo di merda vedi quanto sono bastardi si nascondono si vede con le spalle al muro e si va a nascondere il bastardo mica l'ho visto mica come lagga ancora c'è qualche problema va segnalata sta cosa guarda come si nasconde va da come si nasconde per si määltä va da come si nasconde per si määltä va da come si nasconde per si määltä se l'hai scusciato qua c'è un altro bidone ne rimane solo uno quella là in fondo chi è? sei tu? siete due nell'isoletta chi è quell'altro accanto? ok li ho staccati tutte e due qua non lo so sicuramente se ci dov'è andare a nuoto ma ti prendi due triliardi di radiazioni oh qua c'è una tassaforza si la luleo non c'è la forcina minchia a quale radiazioni? 30, 30 radiazioni all'acqua io c'è una madre che ce l'ho un un radaway minchia a 30 radiazioni ma cazzo ci arrivo là col pensiero gioco la tavola random indossa c'è qua l'acqua no che radiativa super radiativa non c'è la e o te in o o o o o Sì La ciappa di la carne Katia Che poi cuciniamo Io se vieni una carne ti posso dare Oh Topi super mutanti Ma che c'è questi topi? Che piccolino Quanto punto pone Con i mostruosi Che cazzo Questo fucile è quasi rotto Questo fucile è quasi rotto Questo fucile è quasi rotto Questo fucile è livello 10 Non lo sto giocando Questa caccia Sì Non ci posso andare Mi dice che è là Mi dice La cosa di radiazione Come ci arriva lì Cioè Come cazzo ci arriva Vediamo Qua ce n'è uno 48 metri Qua No 51 L'altro è 93 Devo capire come fare Da quella 50 metri Devo capire Ma credo che Dovrò farmi un bagnetto Visto che ce l'ho io Errato Dovrò farmi un bagnetto Aspetta Qua c'è la cucinare Fammi cucinare Allora C'è l'avvicinante Non ho perso il legno Non ci credo Vabbè Non ti posso occupare Cazzo Lo trovo il legno Allora Vedo se riesco Vedo se riesco Andarci Allora Dice che è là Allora Mi prendo Un radic Mi prendo Radic Protezione 270 Reduzione Parto del codice Ho trovato un altro codice Di lancio missilistico Nucleare Sì Qua è il Tizio C'è la versione Qua sull'isoletta Ber ощ غ contagio Età Qua Po di barbecue Qua 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 Quag mi segna 48 metri da quella parte 45 metri da quella parte un radic che mi dà 200 per cento di protezione delle azioni, meno male, per me già farei stramuerto, 30 metri qua è, 20 metri, 25 metri, qua è, 10 metri da quella di quelle doppia è fatto che assimilandolo, le pensi che ho trovato il punto, Grazie a tutti Grazie a tutti Ok l'ho ucciso Ho ucciso un Marlock livello 24 Scusate se è poco Scusate se è acquistato Un Marlock cacciatore Oh cazzo arrivano i parenti In parenti arriva Sì l'ho fatto io Ma perché io non la vedo nella squadra È normale Non l'abbiamo invitata Non vedo il suo nome Oh cazzo è invitata Dimmi se lo vedi Ne avete date voi ragazze? Allora vieni qua vieni un Rataway Tieni uno Allora Rataway Lascia Mi lascia due a te E due a Katia Allora Allora Ne avete Radix Allora Vieni qua Te ne lascio uno qua per terra Prenditelo Da qua ce ne possiamo andare Credo I punti I punti per dare che siamo là Nella fabbrica penso È da quella parte Quindi Ce ne torniamo indietro ragazze Vieni qua come va? abbiamo messo un esercito di super mutanti e merloc ho trovato acqua vabbè qua c'è una cosa d'acqua è ancora viva qua c'è dell'acqua qua è l'acqua no, non me la dà, guarda ah vuoi acqua, tieni ma perché non parli, danni, tieni allora ti do 5 acqua, tieni, per terra sono allora no, non lo lasciate, lascia lo lasciate per terra qua ok quale, se quale funzionante la riempiamo si, sentiamo è in incendita questa dà una ritagazione, buono va bene, riempiti tutta l'acqua che puoi e poi la prendo io dà una ritagazione questa, fortunatamente meno male che acqua c'era io, era dispensabile ok, così poco ho quadrato insomma HX quadrato, scusa io ho quadrato, una riempita acqua sporca aggiunta può fare più allora le finta dite se non mi hai guardato vabbè vieni qua danni, trovo io rimedi, vieni, vieni vieni qua vieni 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 qua, per terra, qui qui sì, questo adesso beh, ma neanche ci siamo andati noi, non abbiamo partecipato eh ma, oh, che vuoi, mica armatura, di armi non ce l'ha che mi riparo qualche arma panco armi, niente panco armi, qua niente eh no, non l'abbiamo trovata non l'abbiamo trovata che resta danno, ma che c'è non l'abbiamo non l'abbiamo non l'abbiamo non l'abbiamo Ok, sto un po' critico in testa la stronza. Polvere d'affaro, tutte armi di merda rotte, un banco lavoro manca a pagarlo un milione. Faccio il nucleo, poi faccio il nucleo a fusione. Oh, yeah. Sì, sì, andiamo. Sì, ma ancora ci sono dei problemi, polvere d'affaro. Ho trovato un binocolo, figo. Vediamo. Il binocolo, vediamo un po'. Il binocolo non me lo dà il binocolo. Non c'è, ma io... Ora non la faccio a sentire. Non c'è più. Non c'è più. come andare sparata che cadi ti devo raccogliere con il cucchiaino tibia lacchezza di cotone oh questo che è banco lavoro artigiano questa è con le munizioni adesso riesco a costruire qualche munizione granate no mina no una mazza posso costruire si ok praticamente non posso costruire una mazza di munizioni proprio zero ma perché non mi fa prosperità non mi hai fatto sparire una volta ma perché mi vediamo non mi dico non mi sono cioè non capisco io ho preso i bidoni ma non me li ritrovo e non riesco a vederli cioè non capisco ma li dà vuoti ma li dà sti estrattori non c'è le ho mi mancano un botto di materiali non è che non voglio farli non c'è proprio è qua che non capisco che cavolo bisogna fare non mi fa selezionare qua i barili non mi fa selezionare qua i barili non li vedo i barili di scoria ma nè che nastro nè non mi dà le scorie non capisco sta missione l'estrattore seminario acciaio presso me non riesco a capire sta missione ma dove state voi? hai trovato un banco di lavoro? ma allora questo esce qua non posso riparare niente allora contattempo modifica è solo questo via qua questo qua è l'altra una mini impulsa prività scusi buono è possibile ancora un fantastico la posso aprire dov'è il banco lavoro allora la c'è tutto ciò non riesco a capire la missione questo tipo che dobbiamo fare ah diventano un po' di melma allora la città la città la città la città la città è ma la città la città quello delle armi, munizioni questo, banca lavoratriciana qua, che ti fa creare? no, quello delle armi mi interessa almeno, questo non posso fare niente, non ho materiali ok, vedo se riesco a ripararmi le armi, si si, lo so, allora prima armi artigianali, armi lavorate, ora ho la mia pistola, ripara, si si, sto riparando, mi manca materiale, ok, manca alluminio qua, mi manca dell'alluminio, mi manca dell'alluminio, allora, vediamo se riesco un po' a riciclare, qua lo posso attivare dal cam, l'officina, come si fa in fallaotta, no, non succede nulla, alluminio, ok, fantastico, vediamo se riesco a riciclare la vicino, qua dove c'è il dispositivo, riesco un po' a riciclare un po' di roba, questo è nuovo, questo è la caccia, anche questo è nuovo, allora, in un altro modo a costruire, c'è parecchio cemento qua, allora, questo è un po' a costruire, questo non me lo fa a riciclare, questo è il limite al massimo dove posso andare, c'è incredibile, questo non me lo posso riciclare, ho riparato, oh, guardate che ha facciato, fuori ragazzi, guardate che ho fatto, sì, guarda un po', l'ho creato, guardate un passaggio, vuoi un passaggio, l'ho creato, l'ho creato, l'ho creato con, mentre ho riparato la pedana, è un passaggio da nulla, se ti vedi la live, è un vertib, oh, mi dice che è un vertib di livello 20, si, guarda, è fuori, no, però mi dice il livello, il livello 20, mi dice, allora, io faccio sta, mi metto sta posta, mi metto sta posta qua, ragazzi riempitemi l'acqua, qua, accaddo la puntanella, minchia forte il vertib che ho creato, sì, ma sta missione di quella, avete capito cosa bisogna fare, mi dice, va nei macchinari, quelli che vedi da a destra che punti gialli, mi dice, metti materiale, ma materiale che cosa, oh, ma sto pesante, come mai, ah, ho preso, sì, l'ho preso la granata, che, sì, sì, Grazie a tutti. 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 Ok. una sorta di supercazzi, vaffan tua sono risponati i supermutanti di rompiscatola ok devo trovare la legna chi è che ha fatto? dov'è? oh chi è che ha peccato in testa? cattiva Dani si ora devo trovare la legna perchè non posso fare una mazza ho preparato la cucina se avete legna oh qua c'è un miscino cucina legna legna urge legna urge della legna che non si riesco a trovare la legna maledizione questa legna ho condiviso? oh grazie Christian ma non trovo la legna cioè è allucinante c'è un fottile di legna e non riesco a prendere neanche un ramascello voi avete legna ragazzi? per cucinare almeno dividiamo il cibo che io sto morendo sia di fame che di setero l'acqua ce l'ho il problema è il cibo l'acqua ce l'ho mi sembra che bisogna fare quando si esce subito fuori dal volto la prima cosa da fare è una grossa scorza di legna bisogna fare e fiscarla nel campo allora io ti do la carne e la cucini tu dai vieni vieni qua te la metto qua per terra allora carne questa è carne variata la buttiamo allora ho 11 cani di merloc li metti qua ce la fai a fare tutte quindi la tu l'hai cucinata già? allora ti do le 11 li metto qua butta giù è qua eh la carne variata buttalo perchè l'hai presa pure io vedo se trovo la legna ma qua non non trovo una mazza danni d'asta che ti do poi un po' di carne io sto cercando legna more 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 sono buone danno anche acqua danno qua ci sono delle more buone ottime buonissime le more eh sto arrivando eh la gliela ha un po' a danni dai la metà a danni si perchè c'erano delle more che danno anche dell'acqua allora io nel momento mi mangio due more due more se no schiaccio di fame ok 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 almeno un po' di cibo l'ho preso ecco mi arrivo sono qua ok ah 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 l'ho allora la carne ma ti vuoi alzare maezione aspetta qua qua è no questo è canna variata allora aspetta ma solo posso io per sbaglio aspetta no ok sì io ce l'ho io allora allora carne carne morbida carne rottomarlo che da pochissimo ragazzo cioè l'ho mangiata tutta l'ho mangiata come va ancora col cibo abbiamo trovato qualche cosa abbiamo trovato tutta la carne mela come la fanno mangiata in calibre allora la mi da questa missione varie recupera il bottino caduto non so se la vedete mi da tre punti qua 87 72 90 metri dove erano poco fa però credo che sia la stessa di poco fa no la levo la levo sta missione barile tossico me la dà sul bario me la dà ancora sul bario non puoi più facciare questa arma ma c'ho quattro cose 3 così va che tempesta relativa non lo so dove l'hai visto niente sto ritornando niente sto ritornando ma c'ho quattro cose 3 così va che tempesta è giù è giù 7 6 5 4 qua dove l'ho morto io qua 27 26 15 5 5 e milità normalmente sticosi milità però non me li fa equipaggiare non puoi equipaggiare ah c'ho un livello questa fungatore fondatore Vabbè dai andiamocene, vediamo che trovi qualche altra missione dai, vediamo la mappa Sì, pure a me mi da due rombi qua gialli, ma non capisco cosa Ma dove li vedi sotto il barile, scusate Dove sono? Sotto? Dove li vedete? Dove li vedete questi barile? Sì, ma da dentro da, non da fuori No, ti puoi buttare, guarda qua, esatto, ti puoi buttare, tranquillo Fall out, fall out, così, così, hai visto? Dove li hai visti? Dove li hai visti gli altri barile, scusa? Scompletato ha detto? Ah, dove ero morto io, ce l'avevo io e ce l'avevo Ok No, ho trovato l'oggetto che avevo perso io, perchè non ci temerlo L'avevo preso io e il barile ancora Quindi, allora, dovrebbero funzionare i cosi, vedo? No, no, non ancora Non ancora Non ancora Non aumenteranno Qual è il vertibro che ho costruito? Quindi, allora, questo di qua, ce lo possiamo chiamare Quei candelotti del vertibro, come si fa in balla out 4 Sì, perchè è di livello 20, mi dice Quindi, utilizzando, allora lo proviamo a chiamare, che dite? Andiamo un po' più avanti e poi lo proviamo a chiamare Io ne ho 10 di candelotti Ehm, no, ce l'ho su materiali, credo Allora, provviste No, su armi Spero che siano armi Spero che siano armi Ganate 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 Signalatrice per vertibro Sono armi Sono armi Lo posso chiamare Niente, non mi fa niente, danni Però mi è sparita Mi da Ho Una e qua Mi da Chi è questa di qua E l'altro A 30 metri Io ce l'ho la missione Però Maladan Mi da I due punti qua Vabbè Vabbè, dai Levatemi sta cosa Io levo questa Scusate Levo Ok, l'ho levata Mettete una missione a voi ragazzi L'ho levata Io l'ho levata Questa missione Dove andiamo? Non lo so Ce le sono Ancora abbiamo due ore Quindi andiamo a cazzeggiare Non lo so Lempitevi qua l'acqua No Allora, io provo ad andare più avanti, provo ad andare. Il segnale trovato, la radio. Sì, poi mi dà per esempio l'evento generale di Freyton, guarda cosa l'abbiamo fatto tu e io, grazie. E qua me ne dà un altro, mentre nutrire la popolazione. Sì, con quale cibo? Allora, io me ne vado a fare, me ne vado. Ho messo la cosa personalizzata, non so se si vede. No, c'è, cosa dovereva già, sì. C'è la caglia oltre? Allora io sto andando appunto quello che ho segnato sulla matta è un posto nuovo c'è una stella c'è più avanti che cos'è la stella sito bravo vai vai guarda sito bravo sempre dritto qua ragazzi c'era fatta eh di che cosa oh seguitemi se mi vedete sulla mappa, questo è andassito bravo si si l'abbiamo fatto ma non abbiamo capito come si fa con la missione, li abbiamo presi tutti non abbiamo capito come si fa a utilizzare quei macchinari allora sito bravo, si sito bravo, un po' più avanti qua c'è una piccola centrale elettrica non ce ne sono nemici come l'ho detto, sottotituzione elettrica poseidon, già sto nome mi sta antipatico si ma credo che sia pieno di, ha un poligono di tiro bello 14 di qui, cazzarola si ma ci sono il livello 14, voglio la pigliare a danni si venga, 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 deve stare a me, cazzarola oh mi date una mano ragazze ti hai ricercato? no, perché ci sa uno beccati la taglia, dai, ammazzami così, ti becchi la taglia e sali il livello dai, ammazzami e vabbè, vabbè, non devo ammazzare guarda, no, più cibo cioè, il cibo è già finito allora, vuoi vedere qua, guardate solo io sono rosso, giusto? non capi no, stia, è meglio così che gameplay se la taglia di sopra quanto riguarda i tagli, te lo dice cioè, qua non c'è niente io vado al sito bravo, vado e avanti, da questa parte ricercato, ricercato 30 finca, c'è scritto ricercato 30 parassiti rimedi rimedi eh, siamo ricercati qua c'è il sito bravo ho trovato il sito bravo, ragazzi io ho trovato il sito bravo c'è una cassa qua, ragazzi registro e sopravvivente registro del soprintendente inizioni a capolificata ponca, tipo, vai vai, ha trovato un botto di lo stesso varrà anche per i silo Charlie ma dovrò controllare comunque ancora non so come ottenere le credenziali militari per accedere ah, va, è scendo giù con l'ascensore la mia speranza con la mia paura è che anche altri sopravvissuti stiamo cercando di capire come entrare ah, mi sembra la qualità che non autorizzazione devo trovare la presentazione completo casual devo trovare una... un codice una sera niente, qua non possiamo entrare nel sito bravo ok, sito bravo non si entra quindi continuo nella mia missione di andare da quella parte guarda in quella fattoria in fondo non so se mi vedete ragazzi ragazzi se è andato al sito bravo c'è parecchia roba c'è una... una cassa sito bravo, l'avete trovato al sito bravo? è una stella sulla mappa, una stella lo vedi? se non la... eh, ne so, dai sito bravo io sto andando avanti e ti a casa vuoi te le trasportate tu di me tanto non ti paga tu di me ma c'è un tempo c'è quanto dura sta... sta taglia uscita vento chi scavo sempre a casa ci deve mostro falena oh l'uomo falena qua 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 l'uomo falena mostro falena qua livello 30 sopra eh oh cazzo mi hanno ucciso mi hanno ucciso eh ma abbiamo detto di ammazzarmi mi potevate ammazzare perché Dani non mi ha ammazzato? ti piccano i punti tu? me lo spieghi? me lo spieghi? me lo spieghi? me lo spieghi? voi va bene beh rosa sono ancora rosso mi vedete rosso? no perché mi è qua c'è la cassa apritevi la cassa una casa e sopra c'è l'uomo faleno ma è il livello 30 non lo so se ce la facciamo dobbiamo essere tutte cioè bastava che mi ammazzavi e salvi subito subito di rivedere qua richiede un codice che non abbiamo autorizzazione richiesta avete preso? ok io vado a ingaggiare la battaglia con l'uomo faleno vado a fare il culo all'uomo faleno forse si mi richiede l'autorizzazione che non abbiamo abbiamo solo tre codici di lancio ce ne mancano altri due noi tre ne abbiamo codici di lancio eh sto andando dove sono morto dove vanno un mattino poi due stronzio alle spalle può essere morto qua non vedo la mia roba eh credo che a me non mi hanno preso tutto non trovo il pacchetto non trovo niente non trovo il pacchetto che è là sopra l'uomo faleno ah sopra quella montagna livello 30 lo vedete c'è un sacco ah ok è sopra la montagna l'uomo faleno sopra la montagna in alto è sopra la montagna da capia è sopra la montagna è sopra la montagna c'è un tosso che cavolo è sto tosso, un cane lupo oh cazzo io ve lo dire vabbè, metto fino alla sua sofferenza oh lupo, è frascato oh cazzo, sono cascato sono cascato, cazzo oh cazzo attaccio, proprio una da si A presto è morto Alessio. Questo che è? Se guardate argomento portatile, questo è per il mistero oggi, ci mettiamo un stitissimo dog. C'ho una leggera fame, vi mangio lo dog. Ok. Puzzaccio. Scarafaggio grigliato, acqua bollita, buono. Sì, ma io ho visto l'uomo faleno, ho visto. Si è cliccato l'uomo faleno. C'è, è scappato. Mi sa che è ancora più sopra. Che l'ho visto l'uomo faleno. C'è ancora più sopra. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' un lupo forse Oh, un super mutante a livello 10 Un super mutante a flambato Eh, non ti fanno tanta flambata Oh, fermo, che è? Che ti sottoni? Meno male che la mia monotov fa questo lavoro Minca, ma l'uomo falena, cazzo, allora Due volte rifiola e due volte che mi scappa Eh, sì Gli ho sparato due colpi Ed è sparito Qua c'è una cittaccia, ragazze Però che strano, io ho sparato e non mi ha attaccato, è scappato Eppure arriva alla 30 Oh, ma questo posto mi ricorda qualcosa a sto posto Fammi vedere un po' la notte Assomiglia a quel posto, vero Katia? Quello del parco giochi assomiglia Però è diverso Basta che non ci sono quei due trilhiati di Marlock Quello del parco giochi assomiglia Quello del parco giochi assomiglia Cassa, 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 cassa vuota Ah, c'è un venditore Un venditore Chi se ne frega Hai capito? Chi se ne frega Allora, robot commerciante Allora, io mi venderei Un po' di roba Mi vendo sto binocolo Rifornisciti qui Prima della tua prossima uccisione Cibo Vuoi comprare un po' di materiali? Stimprock mi hai stinto Acquista tutto il necessario Dai progetti, progetti da poco Intimitore da poco Chi se ne frega Stimprock diluito Va bene, me ne prendo tutto e tre Svegliata niente Ok Mi interessa Va ancora lavorare Ammature Lavorare se posso ripararmi la mia E qua che c'è? Oh Distribitore Rifornisciti qui Prima della tua prossima uccisione Questo commerciante Non è responsabile Non è responsabile Per la vostra sicurezza O quella dei vostri acquisti Minca una lagga Allora Ripara Non lo posso fare Non posso fare niente Non posso fare Non posso ripare niente Mi mancano i materiali Non posso fare niente Non posso fare niente vabbè, qua non mi dice nient'altro vabbè c'è auto Dani c'è 7 oh qua c'è uno, livello 13 i praticanti dell'antica tecnica della mano lesta verranno puniti con la sbordazione della sottetta mano oh qua c'è un player qui, sta attento, io l'ho salutato, l'ho mai salutato sto andando al punto designato che è un po' più avanti sperino o acqua terrificata, ho provato perché sono gli sci, ci sono scato di forcine, finalmente sto per il busto, ho trovato un po' di roba interessante super mutanti 60 metri è una specie di forzino, complesso scistico di oh cazzo super mutanti, porca mutana ok 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 mazza livello 22 tempo di umano è finito che passato questo super mutante a livello 22 occhio che è sotto a fare i buchi non 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 Oh no. Oh no, sono morto io. Oggi è venuto 22, cazzo. Oggi mi ha sbracato, però la bomba gli ha dato un po' di energia alla mia mina. Oh, è tutto ciò? Oh, è tutto ciò? Oh, è tutto ciò? Ok, è morto il leggendario. Brava. Brava. Eh, mida, braccio destro in cuoio, questo è leggendario. Oh, quando me l'ha dato? Allora, camaleonte, braccio destro in cuoio, quando... Aspetta un po'. Ehm, portato da Rachev. Pure questo è leggendario. Due, due pezzi ho preso. Allora... Eh sì, io l'ho preso. Ah, non li posso utilizzare io, sono alti di livello, livello 20. Minchia, però cazzarola... C'è due pezzi ho guadagnato, uno livello 40 e uno livello 20. Livello 40 e livello 20, perché ho fatto? Sarisburgo, questo è buono, si mangia. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Sì. Missile, missili, no, missili non ce li ho, quindi è cosa che pesa, non li prendo. C'è la porta, c'è la porta, c'è la porta, c'è la porta. Non c'è la porta, c'è la porta, c'è la porta, c'è la porta è brutta. Ma che funzione... che non ho armi la mischia questo è il kaiser a fare notizia non lo sei edicci perfetti ne vedo, l'abbagliate che ci si facciamo un'ommunizione vero un'ommunice vero 2-2-3 è un matto ferito è un matto ferito via questo è come gli avvoltoio arraffa la qualsiasi cazzo di burza entriamo dentro entriamo mi da un oggetto non c'è un oggetto a quaditore dove se ne mostro tutte le parametri che faccio la via ci sono due scale sopra zero munizioni zero munizioni ci sono due mutanti e dove sono ehi umano sparito non vale ehi 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 è gli uccisi un'altra volta vada 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 non sprecare ma sblocare sono alti sono il livello che cavolo oh mi si è impallato il gioco la grafica mi si è impallata cioè lo vedo in terza persona cioè è sballato provo a trasparire è già rapido vediamo se si sblocca ancora delle pecchie questa la devo segnalare si sono riuscito a ripriarlo si è sistemato si è uccisi ok Ah, non lo so che però, non lo so Buon appetito. 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 Invisibile. Guarda, giriamo. Dai, ancora qua lo dobbiamo ispezionare. C'è una chiave qua. La stanza... Non so quale stanza era. Non c'è il numero. C'è la porta che si apre con una chiave. Dobbiamo trovarla. Non sopra. C'è la porta che diventa invisibile. La fermo. Posso sperare se lo fermo. Ah beh, già è tanto buono stare ferma. Non mi vedo. Ci sono... Ci sono due porte. Ci sono. Occhio alla prossima porta. Cazzo, c'era un esplosivo. Di muerti sua. Di muerti sua. No. Stavo per morire. Cartuccia. Munizione. Piatto rossa. qua c'è un cazzo di lanciamistili, cioè non sono morto da un sacco quale miracolo, c'è un lanciamistili però qua, c'è una cassa, capirà, c'è una tarnalista e la faccio il 1.100, non c'è l'altro, scasso è sul ramo percezione vero, scasso è sul ramo percezione se non mi sbaglio, fuoco concentrato, piratore scelto, disinfestatore, competenza del macellaio, eccolo qua, scassinatore, eccolo, scasso è sul ramo percezione, allora scassinatore, ok, ora la posso aprire, ho visto che ho la cosa scassinatore, dove cavolo è, sopra, si, ho messo la soppaccezione, c'era scassinatore, mi ricordavo, quella stritta vera che cavolo c'è, vediamo, hai visto, ora posso aprirla, spinto, voilà, aperto, progetto braccio armatura robot ombrata, figo, stat boy, gamba destra in metallo, coperchio barattolo di vetro piccolo, vediamo i progetti, come vedo i progetti, sopra lo nato, ma sono nota, ultimo che ho preso qua, letto di metallo posso costruire, progetto, no, non me ne faccio niente, non ce li ho presi, Miche, ok, sono detti, sono detti, sono detti i progetti, sono detti i progetti, non è che qua, credo che abbiamo finito, credo, ce ne possiamo liberamente andare, per lo strato credono, mia destinazione dai andiamo da quella parte andiamo da quella parte dai andiamo in un altro bel posto acqua acqua ehhh ma devo rimettere per il campo e rimetterci l'acqua cazzo è ratta tappa di merda ma perchè sono pesante? ah sono pesante aspetta allora buttiamo una di queste la buttatura ma che legno e la rifofili e se ne ero facendo io non ti fai male 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 la arma beto la arma il C'è la mia? siamo quasi arrivati alla destinazione che ho messo è qui di fronte a noi non so che cosa sia ma è qui 60 metri 42 metri qua dentro singola casa te la senti di entrare con me qua dentro? andiamo a esplorare le grotte questa che bacca porca che cazzo eh sta cosa sta pianta sì ma io mi dovrei mangiare qualcosa se non schiatto è mangiabile? no 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 ce l'ho ce l'ho ce l'ho tranquilla tranquilla ci vorrebbe un bello steam fracca per guarire ma c'è un libro qua ricetta ratto talpa macinato porca cazzo allora metto qua fuori dentro a qui si io ero un cane di un deck lot che deck lot basta rimuerti su aspetta che mi metto la granata a impulsi aspetta 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 che vi faccio fare la piena essorce vi faccio fare ganata plasma ganata no questo insomma dovrebbe fare danno dovrebbe fare però mi posso pure abbassare diventare invisibile stati ferma qua proprio io a a ok ci penso io entro io che sono invisibile capito vedo cosa sono morto le crolla cazzo non declo tarpa si figlio d'un cane sta attento nasconditi io ora arrivo per aiuto mi abbasso e divento invisibile ma non ci credo che cavolo è lanciato che cavolo è lanciato che cavolo è successo non lo vedo a livello 50 porca troia cristo santo che cavolo occhio occhio che è lì sta attenta ahhh aspetta 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 un giallo lo sto guardando e eccolo là guarda via a livello 50 bestia ardente che si 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 è fattuto è fattuto è fattuto ho passato qua solo sta... è fuori è fattuto è anche un attaccato è un attaccato è un attaccato è un attaccato ahahah porca vacca porca la miseria ladra è potentissimo le orla vabbè non è male, livello 50 che bestiale sei andato sono ancora là io entro con la corte di sparo non è un attaccato è una grotta è una grotta è una grotta è un attaccato 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 Vabbè, guardiamo qua dentro, si si l'ho preso, l'ho preso, abbiamo visto un draghetto, che era che se ne sia andato il draghetto, si si l'ho visto, andiamo qua, andiamo, spostamento indicatore, lo metto qua, andiamo a quella qua, andiamo, vai, è buono, non lo so, tu volevi dire dove è il tetto, dove l'ha ammazzato, cerchiamolo, non lo so, cerchiamo, non ho capito, lo cerchiamo, dove l'ha ucciso, io non lo vedo, poffè c'è qua, andiamo, vabbè, vediamo, guardiamo, non lo proviamo, ma già mi piace mi piace si mi piace vieni fai vieni iniziamo pericolo altro che pericolo morta di cura pericolo 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 No, no, no. No, troppo lontano, volevo andare lato, ho messo il punto, aspetta, aspetta, forse un po' più avanti, anzi, dove siamo qua, andiamo subito via, ok, io ho altri mangiore di autonomia e poi me ne vado a mezzanotte, quindi andiamo, guarda, scappa, scappa, scappa veloce, Square la mia roba, mai, sta via fuori, guarda, da queste là, questi a destra, Sì, no, 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 no. E' un po' di calcio di calcio. E' un po' di calcio. Vientro aspiro che sono morto. E' un po' di calcio di calcio. E' un po' di calcio. E' un po' di calcio. E' un po' di calcio. Non lo so. Mi sono preso conto ora che i rumori lo attirano. Casi sa come non lo dobbiamo ammazzare sto bastato. Con che armi. Visto il danno che fa. E' un po' di calcio. Quante zucche da scolpire. E' così poco tempo. Ehi tu, fatti guardare un po'. Sì, andrai benissimo. Dimenticavo le buone maniere. Ti do il benvenuto alla casa della zucca. Tra le attrazioni più popolari della palacchia. Io sono Genki il custode. Andiamo al punto. I visitatori esigono zucche intagliate alla perfezione per la festa d'autunno. Ma il problema è che marciscono. E qui entri in gioco tu. Mi porteresti gentilmente alcune zucche da intagliare. Ti ricompenserò adeguatamente. La zucca. Non sono sufficienti. Cerca qui attorno delle piante di zucca selvatica. Non si può chiamare casa della zucca. Non si può chiamare casa della zucca. Non si può chiamare la zucca. Le zucche non sono mai abbastanza Così tante zucche da scolpire per così poco tempo C'è un zucca di plastica, due zucche di plastica Niente dentro non c'è niente di particolare Non trovare le zucche Non trovare le zucche Non trovare le zucche di plastica Cioè ho trovato danni doppi se la salute del bersaglio è al massimo Come si chiama? Questa è una specie di segalama Formentazione si chiama Come si chiama Come si chiama Come si chiama Come si chiama Cioè mi manca un botto di cose Mi manca un botto di materiali Cioè 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 mi manca un botto di materiali Grazie a tutti Ok Non c'è una vita pesca Non stecca la voce Non stecca la voce Non sa ancora Proteggere e servire Si Proteggere e servire Bisogna compierla Proteggere e servire 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 Proteggere e ruoti Tuttere Proteggere e ruoti Proteggere e servire c'è dei ardenti qua sotto non lo so la terminazione immediata non scappare cazzi sono morto sono morto Cioè non c'è un lotto, non c'è Qua c'è il terminale, no? Cioè non c'è la fidessa, c'è la fidessa Cioè non c'è la fidessa, non c'è la fidessa Cioè non c'è la fidessa, non c'è la fidessa Il Protector non va segnalato, non ci aiuta O si deve attivare la compiuta forse Sì la compiuta Attenzione, Protector rilevati nei pressi della Red Rocket Consultare gli avvisi sul terminale di manutenzione Il mancato intervento potrebbe comportare la terminazione immediata Che culo Allora 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 attenzione, protektron rilevati nei pressi della Red Rocket consultare gli avvisi sul terminale di manutenzione il mancato intervento potrebbe comportare la terminazione immediata ma rimasto senza cibo non usciamo sto scendo fuori allora, qui sta con vacca per la texica, che ci mangiano? vediamo tagliera qua c'è un nanoquardiano blu c'è cinque canaveri di sti naniquardiani portami di piomba un libro ricetta qua c'è in una stazione è una cosa che non si può riparci non è che c'è qualcosa che è portapena non è ascolto in un bambino che non è in un bambino non è No, 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 no. si che cosa mi sono mancato, niente qua non c'è niente interessante, l'officina l'attiviamo, l'officina posseduta, si, non me la fa attivare, non c'è la parla di vendicazione, non c'è niente, non c'è niente, l'officina, acqua, 2 di acqua, anzi è 26 di acqua sporca che dovrei bollire, non so se la possono rimendicare dall'officina, però la metterà a tutti, c'è Andrea, si ma ti sento bassissimo, veramente, già faccio fatica a sentirti, si ho capito, ho capito, no no no, tranquilla, col pochia prego basta, ma sono pieno, non ho più niente, ho salita tutto, ma sono pieno al massimo di mangiare, che adesso non ho, 5 minuti a mezzanotte, Katia, io mi do gli ultimi una guardata qua, io fin 5 minuti, ma credo che l'abbiamo guardato, si si, non me ne piace nessuno Andrea, allora qua abbiamo guardato bene, è sicurissimo, ah qua c'è una canna in gnam, buona, panne scatola, potrebbe comportare la terminazione immediata, tolta una canna in gnam, almeno, aspetta che l'abbiamo messo comunque, vieni qua, vieni qua, vieni qua, acchiappa, a te la guardata, nel caso finisce d'acqua, schiappati qua, nuca la quante, da pure energia, ti da questa, oltre alla sera ti da tutta energia, ti da, ok Katia qua noi abbiamo visto tutto, io mi fermo, qua c'è un punto giallo, dice recuperare i nuclei di red, ah, qua, ma non la sono noia, qua i tre punti, retroalizi i nemici presso red rocket, li vedi nella mappa i punti gialli, questo c'è da fermare, io mi devo fermare Katia che domani devo uscire presto, quindi ragazzi vi auguro una buonanotte, quindi alla curva live, ci becchiamo, ciao a tutti ragazzi, buonanotte, notte Katia, divertiti.